buonasera abbiamo l'ospite stasera buonasera come va belli de nonno come va come state grazie a vasari riulz per la sua subscribe e anche nono fantasia 1 2 3 4 e chi silvest lui ne aveva avete visto avevo promesso una grande guest stars e naito io l'abbiamo suo fratello un applauso per ricky tognazzi e in france è in france certo si è partito quello prima perché io che mi ha detto che mi raidano breve quindi niente aspettiamo ha mentito manu non era manu era Luke grazie a geek media eccoli vedi c'aveva ragione grazie ai thermos per il raidazzo qualcosa di particolare va bene e grazie a mister duri e a pepe pug e anche a night white car tutti in mezzo al raidone poveracci si sono andati a perdere tutti quanti come state come state qualcosa di particolare si ho registrato il weekly si grazie a te mark allora come vi avevo già anticipato domani è giovedì non uscirà nessun video domani non ci sarà nessun video ma il weekly si infilerà venerdì quindi tra un video normale e il vero weekly si infila al weekly perché adesso sto mi sto preparando sostanzialmente a partire no e visto che mi sto preparando a partire sto organizzando un po di cose allora un video di meno lasciatemelo dai che mi riposo un pelo iskandair qualcosa di particolare grazie mille e grazie anche al sociolio il sociologo ehi ehi qui paffina tocca i nasini saranno deviante un saluto al buon carim e ovviamente a te marcolino grazie mille carim stai guardando la live per caso mi vedi quindi ok oggi mi è arrivato un pacco oggi mi è arrivato un pacco che conteneva un oggetto che adesso vi vado a mostrare tanto grazie a cronstant e ne appoggio tra l'altro il ritardo della live è di tipo un secondo hai visto no? this is the future non è vero this is the fucking bitches future comunque this is the ring of the night oh night mi è arrivata una cosa in edizione limitata una cosa in edizione limitata grazie a tommy was taken again e a freya starry mi è arrivata una cosa in edizione limitata io ho il numero 872 su 2000 e adesso ve la mostro e vabbè e vabbè pensavo chissà cosa aspetta carim c'è un pulsante sono i blu ray sono i blu ray sì sì sono la collezione di blu ray da jurassic park al primo jurassic world fortunatamente non c'è il secondo però se io premo questo bottone e cazzo ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah tu non veramente contenti di essere tornato nelle live con te guarda allora io non sono sicuro che questa cosa qui servisse farla Soprattutto perché Tu avrai il tuo portadvd Lo so perché l'ho visto Quando tu lo infili Perché appunto Tu lo devi mettere di costo Quindi lo vai ad infilare Questo c'è il bottone che sporge E inadvertitamente si attacca al muro Quindi tu lo appoggi al muro e Merda Pensai se parte di notte A te è un po' strano Perché qualcuno l'ha premuto Io mi preoccuperei E poi niente è bello Ci sono insomma I blu ray Vi faccio vedere Peccatore non sia l'altra parte della musica Quella che usi per fare i momenti Sarebbe stato incredibile E delle cartoline Però questa cosa non l'ho capita Sai? Queste qui sono 4 cartoline Con delle Dei disegni Di Jurassic World Fallen Kingdom Quindi di quello che deve ancora uscire E per la Chi è che te l'ha regalato? La Warner? La Warner si E probabilmente l'ha fatto come pubblicità No la Universal La Universal? Si la Universal La Paramount Però mi parevo Non so perché No vabbè Mi hanno contattato Tempo fa E mi hanno detto Ehi ho visto che il tuo canale Tu tratti molte cose Jurassic sul tuo canale E ti va Se ti possiamo mandare qualcosa E ho detto Boh magari mi manderanno Qualche gadget divertente Beh vabbè I blu ray Per carità Ce li avevo tutti lo stesso Grazie Un gadget divertente Efectivamente Sì sì Ecco Non è un placement Non mi hanno pagato Me l'hanno semplicemente inviato Era una cosa Carina Insomma Grazie a Bruno John Stark A Marci E tanti auguri per l'esamore E a Teorasta Che ho già letto Teorasta no? Non mi ricordo È una persona rinondante Teorasta Non ho capito Comunque Noi siamo qui Noi siamo pronti Tra poco Cioè tra poco Adesso giochiamo ragazzi Giochiamo finalmente Giochiamo a Raft L'avete visto il video L'avete visto tutti Grazie a Redado Raft Scusami Ho detto Raft Ho detto È Raft però Letto da giovanotti Va bene Ah sì mi ricordo Ciao Vici Che ritorno C'è gente che ha pagato Per guardare il suo spettacolo Vabbè Fortuna che ha fatto sold out Perché altrimenti Potevano anche non venire Ma c'hanno i soldi Non so Non so come sarà la webcam Questa sera Perché oggi Ho aperto Streamlabs OBS E naturalmente Che è successo? Non funzionava un cazzo Quindi niente Ovviamente Ricominciamo Io spero che funzioni Tutto per il meglio Vedremo un po' Mi si vede bene C'è per foto Ci ho messo 40 minuti A risettare il green screen Se non si vedesse Mi ammazzerei Ok Come si gioca In due? Aspetta Allora io creo Un nuovo mondo E poi Consento agli amici Di unirsi Ma c'è che non sarà il mal di mare Nel menu Allora Il mondo lo chiamo sedere È normale Nome già in uso? Sedere 1 Sedere con il 3 al posto delle E Sedere 1 Grazie Sedere 1 Grazie a Jdal A Marco E a Neur Io sono dentro In teoria tu Ti potresti già unire Connessione 25 24 Eccomi qua Com'è? Eccomi qua Aspetta C'è qualcosa che non va Nei miei mouse Eccomi A Dalsedris Dove sei? Ciao Ma la musica è altissima Io voglio Io l'ho tolta L'ho tolta la musica L'ho tolta E la prima cosa che ho tolta Scusami L'FOV Sì non c'è L'ho sistemato tutto Ma Gigi Sabani Guarda che non c'è Non c'è Grazie mille Altro che mal di mare E non ci presi Niente Allora tu mi distrai Lo squalo Mentre facciamo Ma a me non tira La cosa Deve tenere premuto E poi mollare Lo sto facendo Non fa Fa rumore Ma non tira Col sinistro Ah l'ho E si era Buggata Stavo premendo A destra Te lo dico io No 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 E si era Buggata Ho dovuto togliere E mettere Io ho visto il video Quindi qualcosa so Ma in realtà Questo gioco qui Come dicevo appunto Anche nel video È un gioco che Avevo comprato A qualche centesimo Se non forse Addirittura un euro Sul loro sito Era un'offerta Libra Quindi ho pagato Il meno possibile Giusto per provarlo 10 settembre No no Non era così poco Però Insomma Un po' di soldi Gli avevo dati E L'abbiamo fatto Qualche mattina Non era nulla di eccezionale Però insomma Ci siamo divertiti Il problema È che appunto Il gioco è veramente Noioso da soli Credo sia La noia In due Secondo me È già più interessante Grazie a Luca Un po' di carità No vabbè Dai Era offerta libera Cosa faccio Esagero Dopo pensano Che sono ricco Loro ha fatto Questo gioco Sul loro sito Dove Ha detto Va bene Lo diamo Praticamente gratis O offerta libera Poi qualcuno Ci ha fatto il video Di famoso È diventato famosissimo È vero Ha fatto un bel boom Ma Credo che Allora Io avevo provato Quella versione lì L'anno scorso Poi in realtà Loro l'hanno aggiornato Più e più volte Perché sul sito Poi ti mandavano la mail E te lo potevi riscaricare A me era passato Non è che ci dobbiamo rubare Tu guarda per di là Io guardo per di qua Iniziamo poi È finita Ma poi come ci si scambia Gli oggetti Si può fare C'è un inventario Però le animazioni Sono bellissime Vederti da fuori Sai Guarda C'è anche dei bei colori Almeno ce l'ho tutto È molto bello Sì Con i colori Sono molto belli È vero Vabbè Fammi vedere Se posso craftarmi Magari qualcosa Ecco Ecco Che mi fai un po' schifo Almeno ma lontano Un'altra Tab Faccio un po' di legna Che faccio Grazie Simone Che ha regalato La sabba Frapsa Legna Che devi far legna Perché devi far legna Non legna Un pezzo di barca No guarda L'ho già allargata Puoi fare il depuratore d'acqua Depuratore semplice Mi mancano tre foglie Tre foglie Ecco io ho le foglie Aspetta vediamo se te le posso dare Eh no Mi sa che devi prendere un baule Comune Credo Ma fa un po' Aspetta provo Vediamo se Provo a lasciarle Sì Ah ecco Grazie Ah con la Q forse Sì con la Q Ok Tieni Classico Minecraft Ok Lo metto qua Ok Allora sai come funziona Per l'acqua Bisogna mettere le assi di legno Per il fuoco E poi Prendono un bicchiere Ti devi fare una tazza vuota Riempirla di acqua salata E una volta che l'hai riempita di acqua salata La metti lì E si cuoce Si fa bollire l'acqua Fa bollire l'acqua E la Si 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 Diventa acqua dolce Si è un po' macchinosa Però è così che funziona Quasi Nella vita vera Grazie l'Unda Nella vita vera Si Fai bollire l'acqua A meno che tu non abbia la La cannuccia quella magica L'hai mai vista? Quella che i bambini dell'Africa usano Che in realtà non gliela portano mai Ah quella che hanno provato Rettelink Esattamente Quella là Quella là L'ho provato con la mer Che schifo Ma che stronzo Che stronzo Guarda Come si gioca Ecco ho registrato Un'ora e mezza Per quel video lì E non E non ho fatto Niente Non l'ho fatto Si si Sì 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 Va bene Adesso che siamo in due Sicuramente abbiamo raccolto Molta più roba La tazza Me la creo Quindi Eccola qua Acqua Tie E mettiamo anche Le assi Grazie a Matthew E grazie al DB Se vuoi privato Come Ah Sarà in Radio Venezia Però non hai detto l'ora No sei scemo Sei scemo Che errore Non mi posso girare un secondo Ho sbogliato tasto Aspetta Devi aspettare un attimo E lo squalo E niente E niente Togli verso un po' d'acqua E anche ha dei danni per i suoi cinque mesi Ecco il bello Porca puttana A mezzanotte L'aveva scritto Su un coglione io Ehi L'aiuto Ok A mezzanotte Tra sabato e domenica Minchia Vabbè Se qualcuno Ti riesce a seguire Radio Venezia Tra sabato e domenica A mezzanotte È strano È un orario Un po' strano Proprio sarebbe interessante Sabato e domenica Sì Sabato e notte Praticamente Ma sabato e notte È la radio? Infatti è un orario Un po' delle balle Mi dispiace Comunque sono soddisfazioni Allora Hai il pagaglione? No C'hai della plastica Il pagaglione Ma che? Non abbiamo niente Che pagaglione Hai preso l'acqua 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 dolce Ok Adesso lasciami cuocere Ma Ma sono partiti i grilli In mezzo al niente Sì Qui dovremmo riuscire a craftare Una Aspetta Non lo so Qualcosa Mi lancio? Salto? Se vuoi andare sì Ma io ti perdo È troppo tardi No è troppo tardi Ma c'è una zattera lì Guarda Riusciamo a fare il pagaglione? Cosa serviva? Prova a vedere un attimo Intanto prendo il baule 6 di plastica ci serve Speriamo che quello lì Hai plastica? Mi ha dato Sì Ho 5 di plastica Ok 5 di plastica 1 di plastica E poi possiamo La cosa migliore sarebbe Riuscire a fare la vela Io ho paura Lo squalo che ci mangi tutta Grazie a morte No lo squalo non è così fastidioso Se non scendi No Non è Ogni tanto rompe le palle Però non è Non è così grave È che Ti fa fare dei colpi Almeno io mi sono cagato addosso Nel video Eh sì Più volte Perché stavo In realtà poi dopo ho tagliato Ma nel video stavo facendo I gran cazzi miei Aspetta che c'ho la plastica Ok E niente Lui mi attaccava E io facevo gli infarti Poi riesci a farti l'ascia Per caso? Adesso vedo Perché non ho tantissimi materiali Ok Un squalo molto insistente Sì Lascia No mi manca Un rottame E due di corda Allora Rottame ce l'ho E ho anche due di corda Tieni E tieni Perché poi dopo ci serve l'ascia Per distruggere le cose Devo farmi anche un nuovo arpione Tra poco Vedi che già in due Cazzo come stiamo andando Alla svelta È molto più veloce Sì Comunque il gioco ha una trama Sì A quanto pare Vabbè Ha una trama Grazie Quest Ho fame gatto Hai fame? Eh Magna curame Fatti la cana da pesca L'avevo già messa io L'acqua Ah scusa Non ci sono più detriti qua Eh Quando ti sposti Così capita Dai che Prima che si spacchi La pagaia Ha giusto che c'ha una vita Incredibilmente Certo Fai tre metri Si spacca Famoso remo Che si consuma A contatto con l'acqua Ok Oh c'è una cassa lì Karim Dove? È sulla zattera Vado io con l'ascia Se non si sa mai Eh ho visto che è uscito Totally Accurate Battlegrounds Me l'ha consigliato lui Tra l'altro L'ho provato oggi In ufficio L'animazione della pagaia È da fuori Immagino terribile Anche perché posso Fare questo No è decente Sembra che stai pulendo La polvere con una scopa Però c'è In realtà le emozioni Sono ottime Per essere un gioco così Super indie È 20 euro comunque Super indie Ma comunque 20 euro Eh 20 euro è sempre indie Sì sì Per carità Però sono tanti soldi Vampire costa 50 Vampire Santo cielo Che dell'uomo Siamo finiti? Ok Ma sei sceso? L'ho caduto Ma ho tolto un po' di vita Grazie a nero Ci siamo quasi Io sto morendo di fame Ci siamo quasi Ma come fai a morire di fame Che abbiamo iniziato assieme Anzi si è arrivato pure dopo E si spacca Ma che tristezza Ok Gatto E ho preso la cassa Karim Che dovevo fare Addio Tieni Posso attaccarmi Posso attaccarmi Sarebbe fighissimo Ah Dio mio Tirami Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Posso esserci utile Un card E Gatto Non c'è più niente Di loot E siamo fermi Sì C'è lo squalo Guarda qui Che viene a romperci La barca Eccolo là E noi non c'abbiamo più niente Ma porca putta Allora È già finita così L'avventura Facciamoci un po' di corda E due canne da pesca Va là Dov'è che era Ok Cazzo Otto di corda Non ho niente Aspetta Sta arrivando la roba Niente Eh ci servono Le cose Ci servono Come si chiama E niente Ah ecco le foglie Ottimo Ma non serve lì La puoi raccogliere a mano Eh infatti ho sbagliato Ah che si consuma il gancio Ne Merde vero Eh Non farle coglionate I retini ragazzi Io non ho capito come si fanno Me l'han detto tutti Grazie a sti casi Oh sti cazzi Sti cazzi Ah Fammi vedere Dove sono le retini Come si fanno le corbe Non lo Allora le corte si fanno Devi premere il cacciavite E lì ci sono le cose Trovo Aspetta forse riesco a farmela La canna? Sì Canna da pesca Eccola qua Creo E poi cosa faccio? Eh la lanci in acqua E mi pare che ci sia una piccola animazione di pesca Più brutta di quella di Minecraft Perfetto Però io non so se vedo sinceramente Spingere Ho preso un pesciolino? Sì l'ho preso Eh però dobbiamo cuocerlo Non abbiamo fatto la zona cottura Che semplicemente Non saprei dove mettere Eh però Adesso vediamo se Troviamo un Ok Griglia semplice Una tilapia cruda Mi serve uno di rottami Aspetta lì 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 C'è il baule Il barile No sì Però me lo prendo io E mi si è rotto il gancio Quindi niente Finita lì? Vediamo se riesco a bere un po' d'acqua Cos'è questo? Era plastica Non rottami Scusami Vediamo se riesco a fare Ecco qua Non può uscire qua Ecco qui Oh grazie a Dio Grazie anche a Jet Drugaus La web La web Come si fa la web? Scusami Ah che bello Se tu sei nel Nel craft di qualcosa Non avevo notato Ad esempio Vuoi craftarti La canna da pesca Puoi craftarti La corda Direttamente da lì Non male Ah carino Non male È molto più utile Del previsto Fatemi Lazzaro Che dice Lazzaro Serve la cucina Assolutamente Per i retini Devi creare Il bancone di ricerca Ah ok Eh ho capito Però intanto Dobbiamo sopravvivere Tavolo da ricerca Mi sembra Rottami Non ho rottami Questi sono rottami Sì Eh cazzo Eh no Non ero ottim Mazza ma parte duro È sto gioco Porca Eh l'ho detto Ma infatti è bella lunga La situazione C'è anche una trama Con i blueprint Con le cose Sì Riesci a prendere Qualcosa lì in fondo Ok posso farmi Un nuovo gancio Voilà Eh Qua posso servire anche Cosa ci serve Mr. Franarnia Grazie Cosa ci serve Per il cibo Per il cibo Canna da pesca Non la stai Griglia La griglia Ci serve Ah certo Sì La griglia Eh mi serve Un rottame E tre corde Allora Io ti posso dare Rottame Le corde fattele Rottame Le corde E anche un asse di legno A me bastava Un rottame A lui no Evidentemente Un asse di legno Mi serve Un asse di legno Come te ne do Una sola Tiè Ok E facciamo così Lo mettiamo qua vicino Voilà Devi mettere l'asse Ok Vai Metti il pesce a cuocere Ma non fa Ho avuto acqua salata Sono scemo Eh Oh preso Anche legno Preso Altro legno Hop là Dovremmo riuscire a fare Oh ho preso Un progetto Progetto di ceditore Sì Ah ma lo dice anche a te Sì Figo Abbiamo Il loot E invece Se premi il destro Te lo ridà subito Ah merda Io tre ore Che lo tengo Saperlo La web copre Ah la webcam Copre le statistiche Ah ma La web Intendevate La webcam Ma io per web Ho pensato La rete Ma porca puttana Grazie a Schwarz E io ho pensato Eh che E niente Ci fotte l'acqua Ci fotte l'acqua No dai L'acqua no Aspetta Dai l'ho infilzato Però lento Quindi Cazzo E niente Eh ma l'acqua Dai Eh carino Niente Cazzo Dovevi ricominciare Praticamente Aspetta Eh praticamente Sì E' molto punitivo Lo squalo Quando ti mangia Qualcosa di Di buono No ma più che altro Dobbiamo immediatamente Farci La lancia L'ho fatta L'ho fatta No è proprio la prima Così almeno in due Lo togliamo subito Eh non ci avevo pensato A farmela al volo Me la sono fatta Proprio all'ultimo momento E niente Vabbè Allora Ok Comunque Cosa ci serve Oltre questo Allora Adesso ci servirebbe Fare la vela Dicono che sia importante La vela La vela E il centro di ricerca Mi servono Cinque assi E sette foglie Di palpa Adesso ti incuni Un attimo Perché ho dovuto Spendere tutto Per ricostruire Lì Niente Le cose importanti È il centro Della zattera Eh ho capito Io però Eh non abbiamo Spar Beh tu Grazie a me Magpie Dimmi Eh hai mangiato Quanto ti serve Di Eh sto per iniziare A vedere sbarellato Vai prendi il cibo Prendi il cibo Ah c'è Sì sì Grazie Ok Non è che mi abbia dato Chissà che però Era lo squalo Quello stavo per cercare Di arpionarlo Un po' di plastica No Lì si è rotto Lamo Ma si gli fa facile Quello lì Fortunatamente La cosa si fa Più semplice Ehi Ehi Guarda che figata L'alba Eh ho visto la luce Sì Cazzo Molto 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 bello Il gioco E È preso È mare inquinatissimo Sì Palla Ero io Ero io Eri tu sì Oh guarda questi capelli Che arrivano gratis Prendi il cibo No no Per adesso sono a posto Devo bere Ah no ma non era buona Questa acqua qua Ma vaffanculo Io posso averla Ma io ho tre ore che cerco di riempirla Ma non riesco a riempirla Con la E Con la E No Ah ma perché mi sa che hai dentro la L'acqua zozza Eh adesso sto morrendo di sete Eh prenditi tu tutto dai Eh ci vuole un attimo che si Senti come tossisco No 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 Da mangiare mangia tu Mangia tranquillo Mangio io? Sì 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 Riempi con acqua salata ancora Ho anche l'altra Tiè Oh riempi con acqua dolce Ottimo Perfetto Mi servono gatto Eh non posso dirtelo Perché sto pescando Per Che cosa dobbiamo fare? Ah tu pesca intanto Io cerco di fare la vela Eh dobbiamo fare la vela La vela Per la vela ci servono Altri nove palme No aspetta aspetta Ti dico io che a me me ne mancavano meno Solo nove palme mi mancano Allora a me mancano Quattro foglie di palma E tre assi A me solo la palma Se vuoi darmi Direttamente le tue palme Non so come funziona la vela Mi hanno detto tutte che è utile Ma non so Grazie a sole a Nina Ma ci sta la vela qua? Eh non so come sia Oh Eh È un po' ingombrante Urca È un po' ingombrante Sì Vieni provato R Per una rotazione flu Ma che scomoda Cos'è una rotazione flu Ah così col mouse Però aspetta Possiamo andare verso di là Punta la Punta la verso Ma dammi Non me la dare in faccia Punta la verso Quella barchetta lì Stiamo andando secondo te Eh Vedo di sì Non sono sicuro Me compare Giacometto Scusa Che hai fatto? L'ho chiusa Guarda che siamo molto stretti In canto Belga Bevo Belga Eto Grazie Taiko Kami E ora è un po' strettina Sì la nave Hai mangiato e bevuto? Questo è Hai bisogno di mangiare e bere? No Sono a metà di tutto Ok E ora ma do Allora Questo è già infinitesimamente Infinitamente Infinitamente meglio Di Sea of Thieves Per una Moltitudine di ragioni Scusami Ah non l'avevo presa Ok 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 Eh gatto 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 Che c'è? Che c'è merda? Gira la vela Così Così E dov'è la La cosa qui? S'attaccherà? Ma lo squalo Ah no io c'ho la punta C'ho la punta Vai tu Non me la cambia Chiappa Chiappa Uno due Tre Dai Mi ha portato giù con lui Bastardo Vado di qua Cerco di guidare Cos'è questa cosa? Tutto quello che puoi Non so come si prende Tutto quello che posso Ah raccogli cassa Ok Ma se io mi facessi un'ascia Potrei romperle Queste cose qui? Vedo un cazzo No non si può prendere Che fastidio C'era qualcosa di interessante? È boh A parte che c'è un galleggiante Che affonda lì Aia Un galleggiante che affonda E il colmo Grazie Grazie a Old Sponge Per i suoi controvesi Mangio Mangio questo pescetto Eh niente ho finito il legno Allora Non sarebbe male trovare un'isola Perché magari Recuperiamo della legna Che ci può tornare utile Per Non ingombrarci così tanto Così stiamo tornando indietro Però guarda Ma indietro rispetto a dove? È acqua Rispetto a prima? È acqua ovunque comunque Dici che è randomico Anche se torniamo indietro Secondo me sì È possibile Però non rischierei E quindi L'inventario è comune o no? Ah non credo O sì No l'inventario non è Premi tab Eh Aspetta Cosa c'hai in alto a sinistra? In alto a sinistra? Ah pietra Ah no no Pietra rottami Il progetto ricevitore Non è in comune Meglio così in realtà Non so se la vela si consuma No se si consuma Lo disinstallo Mi sa Devo farmi una canna da pesca pure io Non posso Non c'ho una sega Non c'ho No Occhio Tranquillo Tranquillo Sono qua Pazzicco nel culo eh Sì ma la devi riempire poi dopo l'acqua Hai ragione È ineducato E io cosa faccio? Muoio? Ma sì Ma che presa da ninja Ok Rottami Due assi Facciamo un canse C'è un barile qui Da me Ok Tu intanto pesca Che così Tu pensi al cibo per ora Io intanto vedo di raccogliere Che già così La cosa si fa più Semplice Abbiamo due compiti differenti E iniziamo a gustarceli Grazie a Logans E a Gutray Niente Se uccidete lo squalo Taccatelo con la lancia Che vi dà la carne Non credo di riuscire ad ucciderlo Con la lancia che ho io Perché c'è una lancia più potente In realtà dopo Però non è Ah probabile sì Occhio che sta arrivando eh Lo squalo? Vabbè Ma in realtà sono riuscito A nerfarlo nel mente E vabbè niente Sono stronzo Nel momento in cui masticava L'ho bloccato Ok Andiamo verso di là Aspetta Rotazione fluida Grazie a The Wonder Cinque Ancora poco Grazie mille Anche se Dovremmo veramente Espanderci un pochino Oh yes Che bottino Questo Non è niente di che era Non è Due plastiche Mi costruisci una lancia Ah no aspetta Provo io adesso Ce la fai? Sennò te la faccio eh Dovrei avere materiale Lancia in legno Mi mancano Uno e uno No due e uno Due di assi E una corda Allora La corda Te la fo Aspetta Ah no è vero Aspetta la corda La posso fare io Ok Due di assi Te le do Una e una due Grazie Perfetto Voilà La porco cane Bevo Ti conviene farti i rettini Così prendi più roba Eh lo so Ma dobbiamo creare La 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 cosa Forca tua La web È un baule Barile Niente Oggi va così Canto che cazzo c'è Su quest'isola Non lo so Però Me la riesci a tenere In No se Probabilmente riesco a tenertela Se mi tieni giù la Porco cane Ma dai proprio adesso Ma che cazzo Lo squadro Cazzo Mi sa che dobbiamo Aggirarla eh Perché di qua non si sale sicuro Non sono mai salito su un'isola Non so come funzioni Eh proviamo Non c'erano tra l'altro Quando l'avevo provato io Bravo Così T'ho spinto? Eh no Sì C'è anche il fondale sai? Guarda Sì sì lo so Eh lì lo vedo È veramente interessante capire Che è successo? Si è fermato il fuoco? Ha seccato il pesce Sì Ha seccato il pesce Eh lo devo mangiare Eh sì E ragazzi più di là di così Non va la barca Molto particolare Oh arriva 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 Ok niente Ardo che paura che fa Vabbè che non è grave Eh dai non era Azziccalo Karim Ma cosa fai? Non ho sbagliato Stronzo Ho sbagliato perché Sono andato di confusione Un attimo Come si scende là? Prova ad andare Si interna da sotto? Non so Eh non Oh il gatto arriva Lo squalo Lo vedo Ok No non c'è modo di salirci Su quest'isola di merda Dove fare la scala Con un tetto Scusami Ma che cazzo Magari dal secondo piano Gatto Dal secondo piano Della barca Eh ho capito Es Cazzo Merda Che paura Che paura Che rischio E ora non abbiamo legno Per farlo Non abbiamo niente Non abbiamo nulla Chiappa il legno va Per andare il suo isolo Dovete ancorarvi vicino Ma con l'ancora monouso Ma perché monouso l'ancora? Ma perché è un secchio Gatto che stai facendo? E pesco Che sto facendo? Cioè no Non è che pesco Dio su le robe Ma dai Non l'ha preso Se salti dall'altrata Ce la fai A parte il fatto che l'abbiamo persa Allora ecco la Siamo fermi praticamente E non si avvicina in realtà Ragazzi Eh no Quindi boh Mmm Ma perché? Mi è caduto? Allora andiamo via Ok l'hai già preso tu E adesso qua come un pirla quindi In realtà in due è facile Almeno sopravvivere Di cibo e acqua Almeno quello E infatti sto durando Molto di più contesto Da questo punto di vista Ma anche raccogliere le risorse Stiamo andando molto meglio Eh sì Ok Putta di là Ok Allora Se non ti dispiace Io farei un po' di Oh grazie a Dio Sì bravo Non è tanto di più Eh però No no guarda Già respiro È già Che facile Ecco basta Posso fare questo Grazie a Gabbo Per i suoi 19 mesi Questa è la mia zona Va bene Vediamo come Giustamente prima Qualcuno chiedeva Di descriverti Per vedere come sei Da me sei un bel ragazzo Con i dread È uguale I legati dietro Ah niente Identico siamo Identici Peccato Grazie anche a Silver Sarebbe stato carino Fare in modo che Tu col gancio Potevi recuperarmi Eh sarebbe stato figo Sì Ciao Aleinghi Eh devo bere Sarebbe male Fare un contenitore Sai Eh per adesso Non è che ci abbia Così tanta roba In tasca Ad essere sincero Qua servono assi Ho trovato una patata Ok possiamo creare No devi crearti Perché non c'abbiamo Il coso Come si chiama La serra Non so dove la metterai Ma tanti auguri Eh L'hai trovata? Mi manca un asse di legno E recupero E che devo mettere Per cucinare il pesce Perché se no Ah merda L'ho ciccata Attento eh che mangi Ho capito Sto morendo Si stronzo lì eh Eh ma quando sono Oggetti singoli È difficilissimo Devi fare della prevision Eh prevision Toh L'hai fatto? Ok Sì dove lo metto? Eh qua Qua? Sì Ok adesso devi equipaggiare La patata Sì Pianta patata cruda Bravo Ne abbiamo due adesso E poi E poi la devi innaffiare Ma con l'acqua dolce Tanto quanto ci stai mettendo ad arrivare Aspetta Pianto sta arrivando Che sofferenza Ok Dicevo Con l'acqua dolce Ma che palle Aspetta che ne abbiamo una Ah no Entrambe Almeno le ha buttate entrambe Dai va là Va là dai Ah una 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 secchiata Picchiello Ok Una secchiata magari Tavolo da ricerca Mi servono le assi Hai delle assi? No perché prima Le avessi usate No le ho finite Completamente al 100% Devo bere però Niente Adesso puntiamo magari A farci la La cosa di ricerca Che buio Eh Dovremmo farci i letti Sì Hai ragione Sì Ne basta uno secondo te No ma io non posso farlo Serve talmente tanto materiale Oddio non ho niente Di tutto ciò Ah ho creato dei chiodi però Grazie Frank Perché l'hai fatto? Per il letto So perché servono i chiodi Per il letto Perché il letto È fatto di chiodi Aspetta Posso piantare Una barbabietola Tiè Vai Eh ma vai innaffiata adesso Eh vabbè Devo bere Devo bere Assolutamente Belga Vevo Belga E Tu Sono dei facchieri Esatto Hai fame tu? No sono a metà Mangia pure Ok Intanto ne metto un altro No 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 Eh vabbè Bastardo Bastardo Eccomi Che Coglione Porco cane E E Pfff Tanto l'hai finito E vabbè perché vedo un oggetto Dico cazzo è mio E invece non è mio Sono sicuro che È buio al buio Sì è per questo che Ti fanno skippare la notte Anche perché non è che di notte succeda Chissà che È solamente buio E mi piace Ma cazzo c'è un barile lì C'è un barile lì Previsionalo Bravissimo Eh vabbè ce ne sono anche davanti a noi due Bene Che comunque come vedi noi abbiamo un inventario abbastanza risicato Ma non stiamo Non siamo pieni No perché usi tutto Ogni volta lo usi Eh esatto Niente E questo sistema di acchiappo è diverso dagli altri survival come dicevo dal video però è veramente frustrante Dopo un po' Sì Se sei da solo forse ti rompi i coglioni un po' a fare questa roba È dura È dura Ok ho fatto l'acqua Devo Naffio Con l'acqua dolce eh Sì Sì Voilà I retini ragazzi Per i retini bisogna avere la situazione giusta Vediamo se posso farla adesso Il tavolo da ricerca No mi manca un asse Tala lì Eh te la do io Dove cazzo lo fai? Che non c'è spazio per niente qui Ma non so neanche quanto è ingombra Magari è piccolino Aspetta Aspetta Vabbè Karim Mettiamo così Aspetta Va bene? Aspetta che non metto Ok Tanto cielo Adesso si ribalta tutto Si ribalta Guarda Se hai della ricerca da fare Vieni qui Come si fa il retino Bombola di ossigeno Figo Ma non ho capito Con questo qui Aumentano le cose che abbiamo No Mi pare Cazzo proprio Questo non riesco a salire Che che Ok Bravissimo Io non ho capito Si bordi Perché non si respira Al centro della zattera Ragazzi Non c'è spazio Ragazzi Non c'è spazio Devo mettere il materiale qua E fare una ricerca Ah ok Eh ma spreco il materiale però Oh no Non ho più la canna da pesca Gatto Sì è uno stronzo Eh si è rotta Però le patate Come quando si prendono Ecco qua retino Questo mi sembra un altro di questi Ricerca Hai un chiodo? Si Dammi un chiodo L'ingegnere all'opera Ma sta uno Non voglio sprecarne otto Voglio uno Ok Apprendi Hai appreso retino Si Però è un po' una stronzata Come si fa Vabbè Perché mi spreca il materiale Allora la corda ce l'ho I chiodi ce li ho E Manca l'asse Ne ho quattro Quattro assi? Quanti ne serviva? Non lo so Vabbè adesso vediamo Aspetta che c'è il barile Ok Ok C'erano delle assi Per il retino Me ne servono ancora Tre assi Si Eh te lo date? Eh si sto morendo di sete Aspetta Ma tu mi hai rubato l'acqua dolce Scusami Eh lo è per innaffiare Grazie a Sam Albert Ehm È per innaffiare ma io sto morendo Scusami Eh scusami È perché speravo si mangiasse le patate Ma ancora non crescono Eh vabbè Io cuocio una patata intanto Che cosa devo fare? Il retino? Ok Come si Come lo uso adesso? Tiralo Qua Ok Bellino Ah ottimo Si in realtà è molto poco utile No bisogna metterne Eh ai lati Più ne mettiamo meglio è Eh ma perché la roba che noi Ehm Che passa di lì Che sappici Che la prenderemo comunque Sì però almeno puoi stare attento un po' più in giro ecco Sì è vero Non si cuoce quest'acqua Dai che sto morendo Che paura Ma non mori fortissimo ogni volta Oh sì Ok Allora va Tiè La posto peggiore che può rompere Porca vacca Aspetta fammi vedere se posso riparare qua Ecco sì Oddio mio le patate Le patate sfamano un cazzo Eh certo La barbaveto è ancora No ma infatti la pesca è la cosa migliore E niente mi si è spaccato La chiappa sogni qua E mi manca un asse Ok ce l'ho Ok questo Depuratore migliorato Dice che serve plastica Però non mi dice quanto Allora per imparare le cose nuove Devi metterci gli oggetti che vedi lì sulla sinistra E E Uno per volta E te li sbro No uno uno Quelli lì sono per impararli Karim Tu sprechi un oggetto per impararlo Ma che stronzata Eh sì Ma dove lo metto l'oggetto per impararlo In alto a destra c'è uno slot Ah hai ragione Lo metti lì Fai apprendi E te lo mette nella Nella lista di cose che usano quell'oggetto lì Ok E' un po' una stronzata Che ti sprechi poi l'oggetto secondo me Però Cos'è quella cosa lì Ho preso il depuratore migliorato Sì perché mi sa che serve Però come lo faccio poi il depuratore Adesso ce l'hai nell'inventario Ah proprio normalmente nell'inventario Sì 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 Hai ragione Il ragazzo è Qui Depuratore migliorato Vetro Quattro di vetro Ma non sappiamo come si fa il vetro Esatto E' plastica Cos'è questa piccola Ma la ma stai mangiando cruda Ah non si cucina Cazzo ecco perché è una merda sta patata Sta barbabietola Porca puttana che scema Aspetta che bevo Sono deficiente Un deficiente Porca Le bottiglion Pinocolo Fatto con due bottiglie No I campiani si ammazzano E si mangiano mi sa eh Non ne ho visto neanche uno No ne ho appena sentito uno urlare Non la vedo lo bottiglion Sono scemo Posso fare un tavolo Che serve Per appoggiare oggetti sopra O sotto Sta bene con una sedia E vabbè grazie Sventa passeri Pennello La maca Non ce l'ho la bottiglia ragazzi Noi non abbiamo la carimba Ma in realtà il depuratore Da più Ma porca puttana Beh Eccolo qua la bottiglia Serve plastica Che glielo ho già messa e Tralcio appiccicoso Cazzo è il tralcio appiccicoso Bastardo Non sono caduto Ah sto morendo Ah sto morendo Di cosa? Che è successo? Di fame Dove ti do una Eh merda Dov'è? Eh gatto non riesco a salire Perché va troppo veloce La bacio Ok grazie Vai Se c'è del legno Mettilo qua Per cuocere Perché Eccolo qua Messo Messo Cazzo Dai barbapietolo Sbrigati Però adesso possiamo saltare da qui volendo Da sopra il coso? Sì Bravissimi E niente Non c'è nulla all'orizzonte Ma che tragedia Posso fare nulla Posso fare magari un'altra Un altro retino No perché mi serve corda Dai un'altra cosa di Per 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 piantare il cibo Un'altra Un altro piccolo Un riccio Vediamo se posso farlo Non posso Siamo a corto di assi I tralciapicicosi li devi cuocere Li fai nel crogiolo per i metalli mettendoci le alghe Ma che cazzo di gioco della madonna Cazzo è Fammi bene mangiare appena arriva la roba Sì sì Ah io sono quasi a posto Ho bisogno di altro cibo Quasi quasi mi faccio la canna E pesco un po' Per forza Se vuoi c'ho le patate io Sì Bene c'ho tre patate Adesso ne ho messo una che la mangio E poi te ne cuocio una Ok grazie Funge anche un po' da calamita questa cosa qui Un pochino sì Allora non è male Lo vedo che è stronzo Guardalo Eccolo Morirà mai? E' diventato un insetto gigantesco I chiodi si fanno Con i rottami E cazzo Ah no vabbè ma me le da tre se non sbaglio Ok perfecto Allora la patata non dà un cazzo di cibo Mi sono solo delle assi ancora E anche da cotta da troppo no Ok ho preso le patate Le ripianto Ok E' una patata che sta cuocendo eh Ok grazie adesso La vado a pigliare appena ho fatto Quello non ce l'ha Aspetta Prova a girare verso di là Che cari riusciamo a chiamarlo Bisogna mettere le assi però Porca di una miseria E niente Sto iniziando a non vederci più Mi da un po' fastidio che mi mette gli oggetti che non mi serve utilizzare Nell'inventario C'è quello rapido Lasciami solamente gli oggetti utili sotto Grazie a Vitto Vada rettini come se piovesse Eh ma non Il problema è che per fare i rettini devi avere Non è che ci vuole un cazzo farlo eh Eh infatti è quello Cioè i materiali sono proprio Sono troppo scarsi Oh aspetta 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 Vediamo di lì C'è un'isola? No Un'altra Ma c'è una Sì Ma non la vedo Dimmi se so giusto Eh sì Più o meno sì Aspetta Ok Rettino E i rettini alla fine sono sicuramente la cosa più pratica eh Bro cazzo Ok ce n'ho uno E metto un altro direttino qua Bravo proprio lì E metteremo uno per lato della barca Eh sì Ah serve innaffiare le robe Giusto Cazzo Aspetta Eh tu innaffia che io rimetto altra acqua salata Ok Metto un'altra Metto la barbabietola Va là Solo che micchia Devo mangiarla perché la patata prima non mi ha dato un cazzo Pesca va che Sì devo farmi la canna Aspetta Non riusciamo a raggiungerla Merda non riusciamo a raggiungerla Sì 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 Gli stiamo dietro Aspetta Gli stiamo dietro No vado gatto Ciao eh Bravo raccogli le cose Raccogli le cose Non c'è niente Sì sì c'era il coso Ah quanta roba Ma come funziona Ecco Cacchio che male al culo Ok Porca puttana Tutto bene? Eh sì ho trovato un cardine Sto pescando Perché non ha tirato A modo Il vuo è un bel gaetto GG Sabani Ti dimentichi di riempire l'acqua Signorino Eh Sì è possibile Non me la fa mettere Perché? Perché è già pronta quella dolce Ah ma perché è da di là che si raccoglie Hai mai fatto cagolo? No 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 È che perché ogni volta che vado a bere sono disperato Quindi Ho finito tutte le corde Eh Non ci sono più Aspetta dobbiamo Ecco qui Dobbiamo spendere 5 euro su Steam per configurare l'account adesso Per configurare che cosa? L'account Ma se cosa vuol dire configurare? Non lo so Ha scritto uno in chat Gabriele Ho sbagliato Gabriele ha scritto un misurio di sicurezza È particolare come cosa Sto morendo di fame Ho capito Ecco qua una patata Metto una Metto una barbabietola Oh l'ho mangiata crudo Ho pescato del pesce io comunque Ah e mettilo E ho capito Ambi il tempo di mangiare che sto crepandoci Se dobbiamo per raggiungere gli amici Forse devi spendere 5 euro Ah 5 euro di acquisti Va bene Non è che ti Ah eh va bene Ci sta Sono quasi mille giochi Non so se li ho fatti questi 5 euro Quasi mille giochi Devi festeggiare Pepepepe E vaffanculo E che calamitona Guarda qua che adesso il bar Niente Ma c'era la calamita Stronzo No no Sotto Sulla barca Non ho più niente Devi farlo tu L'ho fatto Che pelo Che pelo Eh aspetta che l'ha giusto E niente Ho raggiustato come ho potuto Cazzo Cazzo Grazie Ricky solitario Scusami Karim Che c'è? E non vedi che situazione? No E non vedo C'è un asse di legno Come? Non vedi che stiamo nella tempesta? Eh Ass No C'è il mare mosso Effettivamente sì No c'è anche una nebbia E una pioggia della madonna Non la vedi? No da me è sereno Ci sono le ombre Cosa? Eh sì Ecco adesso è arrivata È arrivato tutto adesso Sì Sì Merda È un problema Eh no Dobbiamo innaffiare È un problema Non lo so Lo è? Non lo so Non è mai successo Infatti Ci sono anche le tempeste Eh bene Grazie per avercelo detto Chiudete la vela Va Va Io per sicurezza Doretta Ma come è il Sea of Thieves Che ce la spacca ogni volta Che bella situazione Siamo veramente stressi Siamo veramente intimi A saperlo Prendevo il coso femminile Ah vedi Potevi essere Sai che c'era anche la possibilità Di mettere il fuoco amico? Eh cazzo Per farti odiare Dei tuoi migliori amici Certo Deku Grazie mille Il gaveva un bel gaito Sì però questa Beh Si rasserenerà Devo assolutamente mangiare Lo spero gatto Perché se no è Ok Azzecca Azzecca Se sopravvivi A tempesta perfetta Rifai la lancia Che la prossima zippata Va in pezzi È possibile Come The Truman Show Bravo Sì Adesso sbattiamo Contro un pezzo di cartone Cazzo ho fame Perché non ho messo gli assi E se Ok Vabbè Almeno sono preparato Nel caso l'aereo Cada in mare No Mi basta un gancio E l'ho risolta E la corda C'è qualcosa Davanti a me Dove sto guardando io Vedo del bianchino Vedi? Ma credo sia Rifresso della luce Solo che non è chiuso bene Con No 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 Io vedo una Una striscia No 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 Porca puttana Ah no? Dove sei? Eh Aghia Dai Ero salito Ti ha morso il culo? Allora Apro la vela E mi dirigo di là Non ho capito Però mi fido Vai Vedo Tipo una piattaforma Petrolifera Eh Non sono sicurissimo Io non vedo niente Di tutto ciò Mi fido Eh Adesso non lo vedo Neanch'io più Però vedo Una sagoma Nera Prima E adesso mangio Dai Ogni volta Ok Posso costruire altro Io gatto Cosa posso fare? Spazio Cosa faccio? Eh Fai un po' di spazietto Come si fa lo spazio? Ti devi fare il martello Oppure Hai del legno in tasca? Sì Allora ti do il martello io Aspetta Ok Ma lascia cosa serve? Eh lascia credo serva Quando scendi a terra A tirare giù gli alberi Ah Allora Eh Ti E come lo faccio? Ah ecco Ah basta cliccare Dove Dove faccio? Qua? Eh Qui dietro Qui dietro Bravissimo Ancora? Verso di qua allora Sto punto Ci ampliamo dietro le cose Così lo squalo Non può mangiarci Le Il cibo Ecco qui Poi qui Se riesci Ci metterei anche Delle reti Però mi sa che adesso Hai usato tutto il materiale Eh quasi Dovremmo farci il letto Eh tanti auguri Beh in realtà mi manca Una foglia E quattro assi Anche a me Una foglia Le assi credo di averle Grazie Jack Perché notte Sende molto meno di prima Grazie Jack Ma io sto morendo E magna Scusa non ho sentito il rumore della panza Che No è mezzo alla tempesta no Oddio Devi bere? Sì Allora aspetta che riempio poi A posto C'è un'isolissima qua E questa vedevo io Porca troia Perché è il fluido Vediamo se riesco a fare un'ancora No dai bastardo L'ho rotto Karim Devi affizzarlo Ok È morto È morto È morto Come lo prendo? Come lo prendo? Karim? Non lo so gatto Karim come lo prendiamo? Lo sto alziccando E sto prendendo la carne Ah sì Te la sta dando? Sì mi ha dato anche la testa Eh niente Ho rotto E vieni via però Perché arriva suo fratello adesso Sicuro Ok vorrei fare una Vendetta vera Sì è la carne di squalo Bastardo Sarà buona Ma io lo spero Puoi farti il trofeo dello squalo Sì Ok fatta Come funzionerà? Aspetta Eh ma non stiamo andando dalla direzione giusta Hai la pagaia? No Hai tre di legno Ah sì? Sì Dammi che la faccio io Uno Due E tre E tre Paga la terza Come? Eh sì Hai dato due Eccolo Allora Pagaio eh Dai Si può salire sulle isole? Sì È quello che stiamo cercando di fare Allora Aspetta Vediamo se riusciamo Ad andare Ad aggirarla Un attimo Mi sa che riusciamo a salirci qui Eh Sai cosa devi fare? Devi metterti sul tavolo da lavoro Sì Ok Ok aspetta Lì ho messo l'ancora eh Nel caso Ok Sì Ce l'ho fatta Butta giù l'ancora E dove? È lì Di fianco a Qua Pick up? Sì Cioè non so se sia pick up o che Butta laggiù Ecco Butta Ale Ok perfetto Ma mi cade in testa Non credo Infatti Un ananas Ma come Attenzione Poi ho raccolto un fiori blu E due fiori neri Due fiori blu e due fiori neri Merda mi serve un asse di legno Cosa sono queste? Un mango Quanta roba E dei fiori bianchi Non so che E adesso sì che bisogna costruire una cassa Come sei salito? Anch'io voglio salire gatto Ho saltato Fiore gialli Ma sì i fiori si distinguono Qua sono salti Pazzo Un po' glicciato eh Eh però sì Eh però di là ci sarebbe Altra roba Eh ma come cazzo si fa? Questa luce? Diventato Rosso Fosfrescente Ah sono salito Come hai fatto? Anguria anguria Eh Ok Te l'ho fatto anch'io Sono fiori Fiori rosso Fiori rosso Sto morendo di fame Ah minchia anguria Mangio l'ana La sguarda Mi dà sia acqua Che cibo l'anguria O trollo di tanto Che la barca ci sia ancora Perché se me Beh vabbè minchia Abbiamo fatto l'ancora apposta Spider-Man Io c'ho tutti i fiori Di tutti i cuori Ho finito la tasca Che me di anguria Cazzo La rivoluzione Ho finito le tasche Karim sto cagando roba Vieni qui Anch'io gatto Anch'io sto cagando E niente Aspetta Io tolgo i fiori Eh ma sono magari utilissimi Che ne sai Aspetta Per tutto quello che dobbiamo costruire adesso Neanche un po' Eh ma magari Aspetta Li metto nella crafting table Vediamo un po' Allora I fiori Vieni i fiori Vedi tutti dicono Non fanno E i fiori che servono Scusatemi Per arredare probabilmente Scusami Ma che bella arredare Mi goccio dei fiori Gatti i semi di anguria Sono il futuro Perché l'anguria Da sia cibo che acqua Futuro del cibo Fate una cesta E tornate a rubare No ma infatti adesso Vedo di creare Una cesta La porca puttana Eccola qua E due Un'altra serra Esatto Bravo Fai la serra Dove cazzo è Eccola qui Non la posso fare Non ce l'accordo Ma posso farmela Buona Allora La serra numero due Va Porca miseria Lì Perfetto No i semi di anguria Non vanno qua però Semi di pianta blu Come scusami Non vanno qua I semi di anguria Non vanno Cos'è un seme blu Secondo te Quello per fare i fiori blu Ma Cretino Toglilo immediatamente Ma che ne sappia io Questo cos'è Se lo sappia io Sono un po' triste Adesso Ti cucino Un pezzo di squalo Grazie Così almeno Semi bianco Aggiungi acqua Per far diventare un fiore Adatto per un vaso A coltivazione piccolo Vedi Rimuovo l'ancora Va bene Ma cosa servono i fiori? No no Aspetta Non abbiamo finito Non abbiamo finito la casa Karim Aspetta La casa? No scusami L'isola Non l'abbiamo ancora Luttata da tutto Stai lasciando di tutto per terra Ma sono fiori Vai tranquillo Hai detto che non servono Li butto via Che mi frega Scusa No ma è che abbiamo ancora Un bel po' di roba Guarda a tirar su lì Non è vero Come non è vero? Eh no L'ho visitata io Ho preso Ho trovato una cassa Ma gli alberi Non li abbiamo mica tirati giù Karim Hai ragione È che non c'ho Aspetta Vieni a vedere la lamiera qua Che magari la lamiera da Eh aspetta Che adesso sto morendo di fame C'è scritto nella descrizione A cosa servono i fiori Per colorare Ma sì Chi se ne incula È abbastanza Ora come ora Guarda Karim Non ho una lancia Non ho una lancia Vabbè la rete Ci rompono E ho capito Non ce l'ho neanche io la lancia Niente Vi va a prendere la legna Va che ci manca proprio E non so più come Aspetta che sto morendo di fame Quindi appena si cuoce sto coso Me lo magno Sento dei rumori terribili Altro Non si può salire più di così Purtroppo Anche se forse Glicciando si può Cazzo è sto rumore Non riesco più a risalire Come vi hai fatto Scusami Correndo con shift Shift corri e salti all'ultimo Non mi corre Ho ciò che arriva Ok Ok sì perfetto Poi da qua Eh cazzo No era di qua Era di qua Mi ricordo Non riesco Così Vedi che qua c'è della lamiera Ok perfetto Aspetta che intanto Quanto ti dà di legna l'albero? Eh mi ha dato Quattro assi Due di palma Due di palma Cinque assi Ah buono No no ma infatti è per quello che dico Che ci serve Questo non ha niente Questo dal mango Da Fiore giallo Fiore bianco Fiore nero Sul fondale dell'isola trovate Sabbia e argilla Uno come si raccoglie Due a che serve Eh la sabbia fa il vetro Probabilmente Ostia Ah dici che ti puoi mettere a cucinarlo? Eh che sennò come lo fai il vetro? Su una zattera Con la zattera Cosa vuol dire? No la zattera è di legno Non mi metterei Però Io sono finito in un posto Dove non posso più tornare su E fatto bene Mi tocca andare a nuoto Alla barca Sono care cose Eh vado va Ah è vero Sì l'ancore è andata Dove c'è della sabbia Eh vaffanculo tu Ah ma sotto sotto Intendevi E si può raccogliere Quella sabbia lì? Ne ho idea perché c'è uno squalo O serve un Non sono sicuro Potete fare i mattoni Per la fonditrice E si raccoglono Con il gancio normale Mattoni? Non ho capito Fonditrice? La signora Ad appena di sopra Ah bisogna picchiarli Con cosa? E col Cosa qua Ho raccolto Ho raccolto del rame Karim Madonna è minecraft Dove sei gatto? Sotto l'acqua Io non ho una lancia A me serve una lancia Io ce l'ho Devi assolutamente Farmene una Perché sì Adesso Eh sì Chi sono? L'uomo delle lance Aia Perché niente Aspetta un attimo Che ci riprovo Ah qui c'è un pezzo di roba E sono morto Mi puoi tirare su Per piacere? Sott'acqua Devo venire a tirarti su? E sono incapacitato Dove? Ma guardalo lì Ma tutto A faccia in giù Ti devo trasportare io Non so come funziona Non lo vedi tu? Io vedo un casino E adesso? Io ce l'ho a renditi di genera Ti trovo un letto No gatto Mi devi fare il letto No gatto Io non ho niente Cazzo Eh Eh Allora Il letto Templice Non ho niente Puoi lutarmi No Allora Innanzitutto andiamo via da questo incubo Andiamo via immediatamente Perché perdo quello che ho in tasca Se mi Andiamo così Eh Io ti sto trasportando Vedi? Non mi vedi? Sì sì Vedo un disastro Ehi Quanto serve per un letto? Come sei messo? Eh Non ho niente Per il letto Mi serve una foglia di palma Sei assi E tre di plastica Vabbè Sono cose che si trovano easy Dai I rotami sono la rottura Vabbè Pagaio perché non c'è niente qua C'è nulla gatto Eh Lo so che bisogna fare un'esca per lo squalo Però Ci serviamo per mangiare Infatti Il gatto ha raccolto Ho tutto io Per forza stavo raccogliendo Nella cassa No nella cassa non c'è un cazzo ragazzi No la cosa non c'è niente Cioè ho messo la testa dello squalo La vita non scende? No Vabbè per fortuna Ok Un po' di roba l'ho trovata Eh è vero Non devo mangiare né bere Mi ha frizzato Vabbè carina come morte questa qui È bellissimo da me Perché c'è tutta una serie di animazioni nuove Che ti devo portare Ti vedo svenire ogni volta Io ti poso Tu stai a quattro zampe per un secondo E poi Collassi Potete salvare Sì ma infatti adesso appena Mi riviva Salvo Eh Non so come cazzo fare Perché tra l'altro Credo di ostare io Vai a te eh Cazzo di tammato Ma questo che ha messo i fiori dentro Non li ho messi L'ho buttati via No c'è un fiori piantato Ah vabbè Quello è un errore Boh non so come faccio a salvarmi C'è scritto Mi manca uno di plastica Uno di plastica Dietro di te Dietro di te Non è vero Sì c'è un pezzettone grande Quello rosso Ma è lontanissimo Eh adesso Ti giravi prima Aspetta che c'è Altre live Secondo me ci potrebbero anche fare Eh lo squalo No E non c'è Vai rompi rompi Che non c'è niente Nel stronzo Soltato pagaio Vaffanculo Ma c'è un barbecue qui Da craftare? No Aspetta che Devo salire su Devo salire su Ok Ho trovato di tutto Faccio il letto No L'unica cosa che non aveva Era la plastica Che cazzo È finita? È finita Io Tana In realtà vuole continuare a giocare Non ti resta per restare in live No no L'ossigeno non si sta muovendo Ragazzi Sto male semplicemente Mi deve salvare lui Porca p***a Che è un bel metodo È un bel modo Secondo me Di fare la morte Non mi dispiace Perché io sono qui Incapacitato Però lui può continuare A fare le cose Io devo stare fermo Lui mi fa il letto E adesso vediamo Come mi resta C'è un piccolo problema Manca la plastica Non lo sta spawnando Niente C'è lo squalo Però lo vedo C'è lo squalo Ma se ti porto in giro Cosa vedi? Vomito Vedo il tuo culo Perché la testa Aiuta Io non so Cosa succederebbe Se ti buttassi In acqua qui Morirei Probabilmente Ah no cazzo Adesso ho anche sete Ah probabilmente Una volta che è finita La sete E la fame Muoio definitivamente No gatto No dai Ma non è possibile Non sto spawnando niente Non è colpa mia Sì ho visto Che mi sta scendendo La fame La sete Pazzo Lo squalo lo sa E sta nascondendo Tutta la plastica Un pezzo di plastica Gli ma Ci so Focchi Quello là Io ti farei vedere Gatto Il mare è limpido Finalmente È limpido Sì sì Ma io intravedo Vedi dove sono le mie mani Io vedo le mie mani E quello che c'è oltre Quindi adesso Vedi i miei piedi Sì E c'è in mano Il coso Sì Il pagaione Sto proprio provando A salvarti Avete ripulito il mare A costo di romper La pagaia Guarda Pochissima Togli la vela E no Se tolgo la vela È finita Mi fermo qui Che non c'è roba Beh devi togliere la vela Se stai remando Sennò Non funziona uguale Funziona uguale No diremmo dalla stessa parte Ok Il problema è che Gatto non sta spavolando niente Io non so cosa dirti Aspetta Aspetta gatto È il momento? Sì è il momento Vedo La prima cosa che ha spavolato È un pezzo di plastica Ah che non mi manca niente Per morire di sete No gatto no Dammi ancora un minutino C'è dell'acqua pronta Da essere bevuta? Sta cuocendo Eh sì è cotta Ok Lasciala lì Che poi me la ciuccio Eh niente Si è rotto Ah sta diventando buio Provo 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 Ok Fallo Letto Crea Mettilo Mettimi nel letto Ok Cazzo Per il mio caso Qua si è per svegliarti Ok Bevi subito Ho metà cibo e metà fame Bevi Che culo Ma fighissimo Oddio mio Mi hai salvato la vita Grazie Grazie Di tensione maledetta Ma vaffanculo Bevo io Figo però Cazzo che bello Figo Molto figo Metto un po' di legna Nella cosa qui Karim Dimmi Ah no niente Era il mio inventario Scusa Messo 19 Possiamo sdraiarci uno sopra l'altro Non credo Provo a dormire No Ho assolutamente zero materiale Adesso Per un letto Ok Ciao fiori Ah Letto Non ho le foglie Tu sei un deficiente Hai creato questo Sì ma ci serviva Sei un cretino forse Ma tanto salviamo Guarda lì che ci attacca Che ci attacca? Eh Anche perché ci serve Non vedo Ah ce l'hai ce l'hai Non vedo un cazzo Non vedo No non ci attacco Non ci attacco Però se io adesso faccio Salva il mondo Mondo salvato Ho salvato il mondo Hai salvato Cazzo Che feature Eh vabbè Faccio il menu principale Allora Vai Vedi Ah è uscito anche a me Ottimo Provo a fare carica Il mondo Ah ma perché sedere L'avevo già creata Ecco perché Era già usata Sì La prima partita Si chiamava culo La seconda sedere E la terza sedere uno Giustamente Certo Giusto Per Provo a caricare Carica che Dimmi quando ci sei Però il mio inventario Non esiste più Il mio inventario Provo a vedere Rientra Sto entrando Cazzo Spero che esista Perché avevi il martello tu Eh mi sa di no Sai Perché palle Invece si Ottimo Invece si È incredibile Ottimo Perfetto Comunque secondo me La prima cosa che dobbiamo fare È allargare la barca Perché E veramente pochi materiali Servono per farlo Eh Sì ma sicuramente No non è vero Serve tanta plastica Due Eh capì Ho capì Due assi e due pezzi Gatto è niente Adesso abbiamo anche Il letto in mezzo ai coglioni Ma che palle Guarda che mi hanno rinviato Una spedizione di Amazon Di merda Mi tocca annullare l'ordine Comunque Risalvo il mondo Sì che non si sa mai Ed eschio Ragazzi Mi è piaciuto un sacco Mi sono divertito Possiamo rifarlo Magari Un'altra sera Non domani Perché domani C'è mai Summer Car Grazie a Mattia Per i cheers Ragazzi Grazie a tutti Per donazioni super super Come al solito Grazie a Karim Per la compagnia Vi auguro Una buona notte Noi ci vediamo Domani mattina E soprattutto Welcome Buonanotte Buonanotte